Guarda le scarpe, allora Che c'è Maria? Non siamo andati bene, non ti siamo piaciuti, che è? E' mo' che ti stava facendo piangere, io te l'ho detto di non essere giusto Ma io te l'ho detto, questo doveva piangere, che è? Adesso dovremmo partire Aspetta, Maria, ti do una mano io che ho lavorato da Zara un sacco di anni Vieni Grazie Prego Ragazzi, scusate, mi fai una stretta dedicata, accendi le luci Mi sono abbassato un secondo E' successo questo No, non ci credo Non ci credo, ragazzi Non ci credo